Economia, economia con alcune notizie. Partiamo dall'assessore allo sviluppo economico, Mino Borracino. C'è stata una riunione nella mattinata di ieri con le strutture regionali competente, la Task Force per l'occupazione, in particolare per discutere dell'applicazione dell'accordo sugli ammortizzatori sociali, prosegue Borracino, in deroga per l'emergenza Covid-19. Abbiamo tranquillizzato le categorie degli artigiani, in particolare quelle che non hanno pagato il contributo per gli enti bilaterali, che possono accedere anche loro alla Cassa Integrazione e Guadagni in deroga. Chi sostiene il contrario sbaglia. Poi per l'assessore Borracino come Regione Puglia continueremo a tenere il canale di comunicazione aperto con tutte le categorie professionali, con le loro associazioni datoriali e con i sindacati, perché in questo momento serve essere uniti per fronteggiare questa grave ed inaspettata crisi economica derivante dall'epidemia Covid-19.